La nostra vita è la somma delle nostre decisioni e non possiamo sfuggire al passato. Ethan, questa tua missione ti costerà molto cara. Il mondo sta cambiando. La verità sta scomparendo. La guerra sta arrivando. È tanto che non ci si vede. Tu non hai idea del potere che rappresento. Conosce la tua storia e come va a finire. Ascoltami. Il mondo ti dà la caccia. Il suo destino è scritto. Scriviamo anche il tuo? Se dovesse capitargli qualcosa, arriverei ovunque pur di ucciderti. Questo è scritto. Ethan, qual è il tuo obiettivo? Il tuo ultimo obiettivo. Le vostre vite per me contano più della mia. Nessuno di noi può contare più di questa missione. Io non l'accetto. Io non l'accetto. Qualcosa fa sempre sapere. Eh, signora Lina, vanno a Treviso e non stanno emigrando. Il 1978 fu un anno eccezionale per me e la mia famiglia. La nostra vita cambia radicalmente. Dai, se è solo questione d'abitudine. C'è una raccomandata per signor Giordani Claudio? Sono io. Tu non riesci neanche a immaginare quello che vedo io ogni giorno. Comunque hai ragione te. Deve fare un'attività pomeridiana. Il rugby non è uno sport. È una filosofia di vita. Biglietti per il cinema. Quelle sporcherie esposte così davanti a tutti. Vergogna. Ma tu che torni non li segnalai. Tutto il resto passa in secondo piano. Madonna che ora. Non mangia più. Cosa stai facendo? Provavo un placaggio. Guarda, guarda, guarda che occhi sbattuti. Sto io che problema ci avete. Cosa vuoi capirne tu dell'amore? Più cercavo di non pensarci, più lei mi chiamava. Fai in modo che possa incontrare Millie. Tu sei innamorata? Sì, ma lui non mi vede. Come se fosse invisibile. Se uno pensa tanto a una persona, poi in una qualche maniera questo pensiero può arrivare all'altro anche se lontana. Hai preso altri voti oggi? Un 6 in matematica. Un 6? Beh, non è male, no? Sì, anche se è la maglia della classe A7. Scusami, hai il lavoro, scusa. Anche nel weekend. Pronto? Suo figlio è in coma farmacologico. Sono sei mesi che faccio tutti i giorni ospedale, magazzino. Abbiamo visto tutti gli specialisti per poi... per non ottenere niente. Cose da fare prima della fine del mondo che potrebbe arrivare prima del previsto. Tu credi che se realizzi quello che c'è scritto lì si sveglierà? Io non lo so, mamma. Tu pensi che io sia folla? Sì, ma mi piace. Che c'è scritto sulla lista? Fare un graffito sulla caserma militare. Aspetta! Ehi, fermo! Fare un graffito sulla casa e a Tokyo. Pronto? Per caso lei si trova in Asia? Assolutamente no, sono a lavoro al momento. Qual è il prossimo desiderio? Vedi quel puntino laggiù? Quella sono io. Sapere chi è mio padre e incontrarlo almeno una volta. Avrai il diritto di sapere che suo figlio è in coma. Tu non gli hai mai detto che aveva un figlio. Come stai? Bene. Non sembra. Amore mio, scusa. A chi ha fatto del male e sono dimostri clemenza. Tu la vuoi fare veramente una roba grossa? Un portavaluri. E c'è in alto livello, Bruno. Dove sei c'è in scopo? Però sono brutto assai. Questa gente che ha fatto i genocidi. Non stiamo giocando, lo capisci? È la mia vita! Cazzo! Cazzo! Ci scoprono e ci ammazzano. Ma tu perché tre sei andata di casa? Perché non ero felice. Io non ho piacere che tu vieni qua. Io sono felice solo quando lavoro. Perché ti voglio bene. Quanto è scena? Stai mandando a tutta una operazione di polizia. Quali sarei con i soldi per una bambina? Ti spavano, capite che ti spavano? Ti verranno a cercare. E io non ti posso proteggere. Hai paura? Si. Grazie a tutti.